Ladies and gentlemen, dalla sala stampa di Palazzo Figi in Roma, benvenuti a una nuova e effervescente e galvanizzante puntata di il Renzi la buona scuola show. Qualora il Parlamento non riuscisse a espletare l'assunzione per arrivare al 1 settembre, qual è l'impegno del governo in quel caso? Il Parlamento riuscirà in un modo o nell'altro, il decreto non è che lo fa il governo, il decreto comunque deve essere ratificato al Parlamento, quindi il Parlamento riuscirà. Bella questa frase, piaciuta? Il Parlamento riuscirà. L'avevo messa apposta, era bellina, era del potere al popolo, vabbè la mettete su Twitter, ho già capito cosa vuoi fare, grande non fu... Bene, poi? Grazie davvero di cuore il nostro appello al Parlamento, fate bene, fate presto, per noi è fondamentale disponibilità totale del governo e l'abbiamo dimostrato non proponendo un decreto legge, ma dando la disponibilità al lavoro insieme al Parlamento con un disegno di legge.